Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo l'unboxing di un prodotto davvero geniale. Faccio adesso l'unboxing, poi dammi qualche giorno come al solito per provarlo e per montarlo perché vediamo insomma come va e se mi ha risolto un problema in particolare. Come sai io faccio recensioni sia su Mac sia su Windows e ho dovuto mettere una doppia installazione. Quindi ho due scrivanie, questa da cui ti sto parlando e l'altra, vedi, qui si vede un po' sullo sfondo in cui ho un computer Windows. Però ecco quindi doppia tastiera, doppio mouse, doppio monitor e così via. Volevo risolvere questo problema e quindi ad esempio connettere il mio minicomputer con il mio MacBook oppure il mio minicomputer con l'iMac che sto utilizzando in questo momento. Quindi cercavo un prodotto che mi potesse passare, quindi utilizzare sempre gli stessi monitor ma passare da un sistema operativo ad un altro. Magari questo problema è di tanti di voi, anche chi ha degli uffici, chi deve fare delle prove, gli sviluppatori che hanno due computer o magari due computer a casa, però non sai appunto dove metterli, come fare e dovresti avere tantissime scrivanie. Invece in questo modo possiamo risparmiare un sacco di spazio e anche dispositivi connessi. Andiamolo a guardare, io ho fatto una rapida ricerca e alla fine mi sono indirizzato su questa azienda TESmart che mi è sembrata molto solida anche perché fa soltanto queste cose qui, vedete, fa i dual monitor switch. In particolare io mi sono focalizzato su questo e cioè due monitor, quindi HDMI più HDMI o HDMI che mi potesse switchare, quindi passare e controllare due computer con un USB 2.0. Guardiamolo in particolare e poi facciamo l'unboxing. Ecco, questo è il fronte e il retro, ma la cosa più importante in questo caso è proprio il retro. Magari poi lo vediamo in un'altra foto più chiara. Ecco, guardate, questo è il caso, anzi questa penso che sia l'immagine più interessante. Quindi vedi come hai due monitor e due computer che tu puoi controllare direttamente con una tastiera ed un mouse risparmiando anche un sacco di cavi che in realtà devi comprare e così via. Tra l'altro supporta l'HDMI a 4K a 60 Hz, quindi direi anche per i monitor e per le persone più esigenti. Infatti molti lo fanno proprio anche per il gaming. Queste sono tutte le possibilità che tu hai. Ecco qui, guardate, ti faccio vedere il retro da qui, poi quando facciamo l'unboxing vediamo se è tutto vero. E vedete come tu puoi connettere due computer contemporaneamente, una sola tastiera ed un solo mouse tramite queste porte USB. Hai anche delle porte USB aggiuntive, una in particolare aggiuntiva, oppure qui puoi non utilizzarle tutte e due. Insomma, avere una completa console che ti fa davvero risparmiare un sacco di spazio e di cavi, almeno speriamo. Facciamo l'unboxing e vediamo cosa c'è all'interno. Eccolo qui, guardate, io l'ho già messo, davvero non l'ho provato, però sono molto molto curioso. Questo è il manuale utente, il manuale utente che mi sembra soltanto in inglese. Ah sì, non ti ho fatto vedere, però c'è anche il telecomando che non so quanto utilizzerò. Ecco qui, vedete, questo è proprio il prodotto. Direi di togliere adesso questa, la scatola, eccola. Questa è il davanti, questo è il pulsante di switch, immagino. Questo è da dove è selezionato e questi sono tutti i LED che mi danno. Ecco, questo un po' intimorisce, però vedete, questo è tutto per governare il PC1, questo è il PC2 e poi questo è fatto appunto tastiera, mouse e i vari display che poi tu ci puoi connettere. Questo è l'USB2. È tutto qui, ti faccio vedere la grandezza magari. Ecco, guarda, questa è la tastiera del mio iMac. Vedete come è proprio perfetto per la tastiera. Direi le dimensioni sono le stesse. Vediamo un po' i cavi, vediamo un po' cosa c'è ancora all'interno. Spero che ci sia qualche cavo, vediamo un po', altrimenti dobbiamo comprare un sacco di cose, ma penso che ci siano i cavi. Allora, va bene, questo è l'alimentazione, alimentazione presa europea, il telecomando che poi vedremo insomma a cosa può servire e questi immagino siano tutti i cavi che adesso abbiamo, che dovremo collegare. Eccoli qui, guardate, ok. Questi sono cavi HDMI, importante, 4K, sono cavi semplici direi. Invece questo cavo qui è un cavo un pochino più interessante. Cioè vedete come adesso io dovrò collegare, e il collegamento immagino sia molto semplice, questo qui alla mia USB. Vedete, se io adesso seguo il cavo, vede che c'è qui una USB standard e questa la devo connettere ad un computer, a un mio computer. Mentre l'altra parte del cavo qui va su l'HDMI da questo lato e poi dovrà connettersi all'HDMI del mio computer. Ecco, mi raccomando, computer. E infatti qui c'è scritto PC1. Guarda un po', PC1. Mentre queste altre due sono proprio per i monitor, quindi per doppio monitor e per quelli abbiamo questi cavi qui. Quindi direi, l'installazione non è troppo complessa e anzi sono abbastanza curioso di mettermi alla prova. Ora dunque, dammi qualche giorno per provarlo, perché adesso devo smontare tutto il mio ambaradan qui. Penso che avrò bisogno di un adattatore, ho già visto, poi ti dico tutto quando ho montato e vediamo un po' l'effetto che fa. Eccoci tutto pronto. Abbiamo qui il nostro TESmart, abbiamo tutti i cavi che sono stati messi a disposizione, un PC Windows, un mini PC in questo caso, poi abbiamo un MacBook e adesso colleghiamo tutto. Ti faccio vedere come collegarlo e poi facciamo la prova del 9. Tra l'altro ho messo anche due monitor e sono molto curioso di vedere come si passa da un monitor all'altro e soprattutto da un sistema operativo Windows a un sistema operativo iOS soltanto premendo un pulsante. Cominciamo dunque, ti faccio vedere magari soltanto sul mini PC come si collegano. Quindi prendiamo il cavo che ha... Ecco, vedi, qui ci sono tutte le protezioni del caso. Guarda, qui non ti puoi sbagliare perché abbiamo proprio una presa USB e ci dice proprio USB, scusa, devo dire USB e va sulla presa USB, quindi così non posso sbagliare e l'HDMI, la stessa cosa va nel PC 1. Facciamo adesso che il PC 1 sia il nostro PC Windows. L'altro lato invece lo debbo inserire dietro al mio mini PC dunque uno lo metto sulla USB, magari una USB messa così e l'altra su una uscita HDMI del mini PC. Ed il gioco è fatto. Però debbo collegare anche un altro cavo HDMI sempre, vedete che qui c'è sia la USB che il cavo HDMI per il PC 1 ed anche un altro input da mettere sempre sul PC 1. i primi tre sul PC 1, i secondi tre sul PC 2. Quindi prendo l'altro cavo sempre dato in dotazione tolgo le protezioni, tolgo lo stesso la plastichina e vado ad inserire il cavo. Ecco, qui HDMI da questa parte e l'altro sull'altra HDMI del mio mini PC che nel frattempo ho anche acceso per sbaglio. ed ecco qui tutti i collegamenti a questo punto del PC 1 sono finiti. Faccio la stessa cosa per quanto riguarda il PC 2 poi nascondo un po' i cavi e ci rivediamo prima di collegare i monitor. Questo sul PC 2, stessa cosa HDMI sul PC 2 poi e qui vado, metto in questo caso guarda mi sono dotato di questo connettorino qui quindi HDMI da questo lato e USB da questo lato ed eccolo qui poi l'altro cavo HDMI sul PC 2 vado ancora, cavo HDMI per quanto riguarda il PC 2 che vado a collegare con l'altra connessione sul PC 2. Adesso abbiamo collegato i computer dobbiamo collegare i monitor vedete che qui io ho due monitor prendo il cavo HDMI del primo monitor e lo vado a mettere vedete che qui ci sono proprio display 1 e display 2 in questo caso magari del display 2 prendo l'uscita HDMI dell'altro monitor che ho qui e lo metto magari su display 1 ecco qui l'ultima cosa che mi rimane da connettere sono le periferiche dunque mouse eccolo qui mouse che accendo e che la cui pennina che tra l'altro vedi è un mouse wireless vediamo se lo riconosce lo mettiamo qui sopra e la mia tastiera USB che vado a mettere qui e poi metto qui il suo la sua USB tutto è collegato ora dammi un attimo per sistemare tutti quanti i cavi poi accendiamo incrociamo le dita e speriamo che tutto funzioni eccolo qui ho acceso dunque adesso vediamo mettiamo la password hai visto come la password l'ho inserita già con questa tastiera non con la tastiera del computer mi dice impostazione della tastiera per ora io lo lascio lo lascio stare guardate il mouse guarda il mouse come va da tutte e tre le parti praticamente ho un 3 monitor a questo punto ho 3 monitor il monitor del mio portatile e i due monitor del che sono aggiuntivi guarda ti faccio vedere magari apriamo una presentazione powerpoint vediamo un po' l'effetto che fa direi che funziona egregiamente fino a questo momento ecco vedete guarda come io posso passare la mia presentazione powerpoint da una parte all'altra come voglio lanciamo un po' in presentazione vediamo un po' come funziona guardate come ho praticamente qui ho la mia presentazione qui ho la parte di relatore e qui ho la presentazione così considera che ad esempio se fossi in una video lezione io avrei la possibilità di avere la parte relatore la parte appunto in cui c'è la presentazione quindi magari annotare anche qui e tenere d'occhio la mia classe all'università o a scuola in qualsiasi modo perché qui posso aprire tranquillamente ad esempio una finestra meet una finestra teams e così via ma ora facciamo la prova del 9 e cioè switchiamo come si dice in gergo tecnico a windows dobbiamo premere questo tasto qui giallo e andiamo e dovremmo essere nel nostro computer windows guarda qui lo spettacolo chiaramente quello è ancora il computer mac os che viaggia per conto suo e questo è il mio computer windows in cui ho gli due monitor e il doppio monitor basta premere un tasto e guarda come sono di nuovo all'interno del mio computer mac cioè del mio macbook pro premo e torno a windows con un attimo dai io sono iper soddisfatto dovrò un po' sistemare tutti i cavi come vedi ma direi che il nostro tesmart dual monitor funziona egregiamente perché mi dà proprio la possibilità di avere tre monitor ti dico che l'ho provato anche con il mio iMac e funziona allo stesso modo e cioè ho tre monitor il monitor del mio iMac e i due monitor affiancati ho messo la stessa cosa ho fatto la prova con il mio mini pc e funziona egregiamente quindi direi prova passata e quindi eccolo qui se hai l'esigenza di dover avere o più monitor vedi in questo modo qui oppure di dover passare da sistemi windows a sistemi mac in maniera repentina oppure avere sempre tutto a disposizione io direi che il tesmart fa davvero anche per te benissimo ora io ho finito questa recensione scrivimi qui nei commenti cosa ne pensi quanto ti è piaciuto questo prodotto se vuoi che continui a fare recensioni del genere ora non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro anche con tesmart un ottimo studio una vita splendida e ti saluto il mio ciao ciao grazie infinite alla prossima ciao